Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Francesco, oggi vi presenterò il mio clamidosauro Andrea. È un rettile che vive nel deserto con il corpo ricoperto di scoglie, una coda quasi lunga come il loro corpo e degli artigli molto lunghi. Vedete? Qua. E la sua caratteristica è che è una bellissima criniera che si apre quando è spaventata o arrabbiata. Vi ricordate il film Jurassic Park dove c'era quel dinosauro che apriva la criniera e sputeva il veleno? È stato coperto da questo rettile. Invece il mio è bravo. La destra da avere del mio spruzzino si fa carezzare e toccare, soprattutto quando dorme. È stato bello presentarvi l'ignore, il mio clamidosauro e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando lasciate like e vi farò vedere un altro dei miei animali. Ciao ciao!